Come prendersi cura di qualcuno con disprassia. Disprassia è una disabilità in cui, nonostante nessuna menomazione fisica, cervello della persona ha difficoltà a pianificare i movimenti. Di conseguenza, possono essere goffo, hanno difficoltà a viola il resto dei movimenti, hanno scarso equilibrio, e o lottare con l'apprendimento di nuove abilità motorie. Mai prendersi gioco di loro, e non tollerano altri farlo. I sintomi di disprassia. Sintomi di disprassia possono variare in base alla età del bambino. Con questo in mente, vedremo ogni età singolarmente inferiori. Molto prima infanzia. Il bambino può richiedere più tempo rispetto agli altri bambini a sedersi, strisciare, camminare, parlare, stand. Vasino diventa addestrato, uscire da pannolini pannolini. Costruire il vocabolario. Prima infanzia. Successivamente le seguenti difficoltà possono diventare evidenti. Problemi di eseguire movimenti sottili, come ad esempio legare lacci delle scarpe, facendo fino bottoni e cerniere, utilizzando le posate, scrittura a mano. Molti avranno difficoltà di ottenere. I problemi che eseguono movimenti parco-giochi, come ad esempio il salto, suonare la campana, cattura una palla, calci una palla, saltellando, e saltare. Problemi con i movimenti in aula, come l'utilizzo di forbici, colorare, disegnare, giocare giga-sega. Problemi di elaborazione pensieri. Le difficoltà di concentrazione. I bambini con disprassia comunemente è difficile concentrarsi su una cosa a lungo. Il bambino trova più difficile rispetto agli altri bambini a partecipare a giochi-parco-giochi. Il bambino agitarsi più di altri bambini. Alcuni trovano difficile andare su e giù per le scale. Una maggiore tendenza a sbattere contro le cose, a cadere, e far cadere le cose. Difficoltà di apprendimento di nuove competenze, mentre gli altri bambini possono farlo automaticamente, un bambino con disprassia richiede più tempo. L'incoraggiamento e la pratica di aiuto enormemente. Storia e scrittura può essere molto più difficile per un bambino con disprassia, come si può copiare da una lavagna. Di seguito sono comuni anche in età prescolare. Ha difficoltà a mantenere gli amici. Comportamento quando in compagnia di altri può sembrare insolito. Esita a maggior parte delle azioni, sembra lento. Non tenere una matita con una buona presa. Tali concetti in, out, di fronte sono difficili da gestire automaticamente. Più tardi nell'infanzia. Molte delle sfide di cui sopra non migliorano, o lo fanno molto poco. Cerca di evitare sport e pe. Impara bene su una base uno a uno, ma in nessun posto vicino come pure in classe con gli altri bambini intorno. Reagisce a tutti gli stimoli altrettanto, non filtrando stimoli irrilevanti automaticamente. La matematica e la scrittura sono difficili. Trascorre molto tempo ottenere scrittura fatta. Non seguire le istruzioni. Non ricordo istruzioni. È mal organizzato. Sociali e sensoriali, persone con disprassia possono essere estremamente sensibili al gusto, la luce, il tatto e o rumore. Ci può essere anche una mancanza di consapevolezza dei potenziali pericoli. Molti esperienza stati d'animo altalene e visualizzazione comportamento irregolare. C'è spesso una tendenza a prendere le cose letteralmente il bambino, può ascoltare, ma non capire. Molti bambini con disprassia sono vittime di bullismo, soprattutto nelle lezioni di ginnastica, a causa della loro scarsa capacità atletiche. Ricordate che stanno cercando il loro più duro e che restare in forma è più importante che essere in grado di fare un cerchio o di prendere una palla. Rompere le azioni in passaggi. Nei programmi di arti marziali, abbattere ogni movimento in grande dettaglio. Ad esempio, per un pugno di karate, si effettua un pugno con il pollice fuori e arricciati in modo che non si attacchi out, start up di palma al tuo fianco, estendere il braccio e torsione alla fine del movimento. Se a capire istruzioni altrettanto dettagliate per cose come legare le scarpe o andare in bicicletta, questo lo rende molto più facile per il bambino con disprassia per imparare a fare queste attività. Mantenere la pratica. Li inizia facendo il movimento con movimenti lenti, in modo da avere il tempo di pensare attraverso tutti i passaggi, e poi li hanno gradualmente accelerare, pur facendo in modo che stanno facendo il movimento giusto. Insegna loro come cadere. Molti bambini con disprassia cadono spesso a causa della scarsa equilibrio e coordinazione. Controlla la pagina su come cadere in modo sicuro e praticare questa abilità con il bambino fino a che non possono farlo. Questo potrebbe impedire un grave infortunio se non perdono il loro equilibrio, soprattutto sul ghiaccio. Insegna loro come cadere. Molti bambini con disprassia cadono spesso a causa della scarsa equilibrio e coordinazione. Controlla la pagina su come cadere in modo sicuro e praticare questa abilità con il bambino fino a che non possono farlo. Questo potrebbe impedire un grave infortunio se non perdono il loro equilibrio, soprattutto sul ghiaccio. Guardate i loro punti di forza e di debolezza. Disprassia va spesso insieme con differenze di apprendimento come l'autismo, difficoltà di apprendimento non verbale, e ADD. Questi possono causare difficoltà con l'interazione sociale, la matematica, e prestando attenzione, e queste questioni devono essere trattate separatamente. Aiutali a scrivere. I bambini, o anche adulti, con disprassi hanno spesso problemi di scrittura, l'ortografia e rendendo le loro parole pulito in modo che altre persone possano capire. In altre parole, che di solito hanno cattiva grafia. Non basta spazzolare via, aiutarli sedendo con loro e praticare la loro scrittura per renderlo migliore. A scuola, potrebbe essere più facile da usare un computer portatile e digitare il loro lavoro, invece. Verificare se la scuola di tuo figlio fornirà un computer portatile o di consentire di portare il proprio uno in. Essi possono e-mail l'insegnante qualsiasi lavoro se hanno bisogno di. Esaminare elaborazione sensoriale. Molte volte, disprassia può essere un effetto di integrazione sensoriale e disfunzione, una condizione in cui il cervello ha difficoltà a dare un senso di informazioni sensoriali. Se il feedback che ricevono dai loro corpi, tattili, equilibrio e o propriocezione, è povero, allora il loro coordinamento sarà anche povero. La terapia occupazionale può aiutare con problemi di elaborazione sensoriale. Sensoriale Scopri le funzioni esecutive Funzioni esecutive sono la capacità di pianificare e regolare il comportamento, come ad esempio l'inibizione impulsi, mantenendo organizzata, e controllare la quantità di sforzo che mettete in un compito. Dal momento che molte delle stesse regioni del cervello controllano sia la coordinazione motoria e funzioni esecutive, è comune per problemi con un settore di andare avanti con l'altra area. Disfunzione esecutiva può essere particolarmente frustrante perché sembra che il bambino è demotivato pigro quando in realtà sono in grado di fare ciò che si aspetta da loro.